... Negli studi di TV City, Vincenzo Accardo, presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco, oggi qui per fare una denuncia attraverso i nostri microfoni. C'è un problema serio per le nuove matricole per quanto riguarda i corsi di nuoto e voga. Che cosa sta succedendo? Succede che gli ultimi corsi che hanno fatto i lavoratori delle nuove matricole è stato, se non sbaglio, ottobre. All'inizio di ottobre è stato fatto il tuo nuovo corso e poi tutto bloccato, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Marzo ma arriverà anche aprile per il caso Covid. Ma non riusciamo a capire cosa vuol dire caso Covid. Se ci sono delle piscine, delle strutture, dei centri di formazione che stanno facendo testa di sopravvivenza e sopravvivenza, nelle piscine che devono girare le zattele, scusate, quello è perché hanno la via libera per fare i corsi, perché è stato fatto un decreto che devono fare, dei corsi di formazione li possono fare. Vogliamo abilitare questi giovani nuovi che si stanno facendo al mare, cosa succederà, si troveranno anche lavori, ma cominciamoci a fare i corsi. Perché dico questo? Voi dovete capire che il marito deve fare tutta una documentazione, questa documentazione scaderà adesso. E cosa succederà? Questi che già hanno speso 200 euro di sangue, patologia, visite che scadano, cosa succederà? Vuol dire che devono fare di nuovo tutta la documentazione da capo? Questa è la cosa più vergognosa, perché loro dicono che non ci sono le piscine. Io dico che le piscine ci sono. Qual è il problema della Capitina di Porta? Allora che la Capitina di Porta si fa carico di questa cosa urgentemente, di sbloccare questi... Noi abbiamo più di... ci sono più di 150 ragazze che devono fare il nodo evoca. Ma scusate, io faccio una domanda alla Capitina di Porta. Chi si assume questa responsabilità di far scadere tutta questa documentazione e cacciare tutti questi 200 euro? Quelli già non si lavora. Cassa integrazione, non si lavora, non si imbacca, non si fa niente. Gli dà la beffa di andare a fare di nuovo tutta la documentazione. Pagherete voi la Capitina di Porta. Vogliamo capire chi pagherà. Dunque il danno e la beffa per questi marittimi che vedranno a breve scadere tutti i documenti che hanno preparato in mancanza di questi corsi non possono imbarcare. Non possono imbarcare perché l'ultimo costo che è per imbarcare è il nodo evoca. Se non fanno questa nota evoca, questi lavoratori non possono imbarcare, non possono avere l'accesso alla prima immatricolazione perché dopo hanno l'accesso alla prima immatricolazione devono cominciare a fare tutti i corsi in base per cominciare a vedere poi dove devono fare la via crucis per imbarcare perché poi ci vuole un miracolo su questo. Vogliamo rivolgere attraverso le nostre telecamere un appello alle istituzioni. Chi si sta interessando di questa faccenda? No, sai che Genova devono fare il nodo evoca? Scusate, Genova? Io ho tutto iscritto e dice che devono fare il nodo evoca e noi che siamo attori da che, che possiamo andare a tutte le facce, sai chi che mette le piscine a disposizione? Non possono fare il nodo evoca. L'istituzione? Dove stanno? Comune e regione, qual è il suo appello? Comune e regione, caro sindaco Giovanni Palomba, cari assessori regionali, mi siete pagliati 24.000 voti, 40.000 voti, avete fatto le vie crucis per andare casa per casa per andare a prendere questi voti che non esisteva nemmeno il covid, da settembre, è stato ottobre, il covid a settembre. Quando abbiamo fatto la campagna, non c'era, si siamo mischiati tutti qua, ma ora che dite? La spendete mezza parola per fare questi corsi in nodo evoca per questo nodo evoca? Caro regione, caro Deleuco, io ho capito che dobbiamo lasciare lanciare fiamme, ma volete scrivere a Deleuco per fare questi corsi ai lavoratori, per vedere un po' qual è la situazione? Caro Giovanni Palomba, mi ti ringrazio che una volta hai speso tantissimo e no, devi fare ancora un altro sforzo perché qua se noi non bartelliamo e parliamo, è sempre tutto fermo, è sempre tutto in silenzio, nessuno sa niente. Io faccio l'appello anche a Luigi Gallo, la grande dottoressa Loretana Rai, dove sei? Luigi Gallo, tutte queste persone, mi chiedo scusi se non ho messo qualcuno, mi vale tutti questi quei regioni che si hanno preso, una marea di voi, qua vale 40 mili, 24 mili, ma avete speso un'emozione per i marea?